In Calabria ad oggi sono stati effettuati 38.461 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.119 più 1 rispetto a ieri, quelle negative sono 37.342. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro 46 in reparto, 2 in rianimazione, 59 in isolamento domiciliare, 77 guariti, 32 deceduti. Cosenza 21 in reparto, 284 in isolamento domiciliare, 124 guariti, 29 deceduti. Reggio Carabria 18 in reparto, 2 in rianimazione, 125 in isolamento domiciliare, 96 guariti, 16 deceduti. Crotone 7 nel reparto, 35 in isolamento domiciliare, 65 guariti, 6 deceduti. Vibo Valencia 51 in isolamento domiciliare, 19 guariti, 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato all'ospedale pugliese di Catanzaro e di Taranto. Si precisa che al policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quelle in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 5.612, così distribuiti. Cosenza 284, Crotone 1780, Catanzaro 1928, Vibo Valencia 354, Reggio Calabria 1266. I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della regione Calabria sono 23.235. Di questi i rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 5.353. 923 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali. Nel conteggio sono compresi anche due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla protezione civile nazionale. Sono 85.231 i guariti dal coronavirus in Italia con un incremento di 2.352 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile. Sono 98.467 i malati con un decremento di 1.513 rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 in meno di ieri. Sempre secondo i dati diffusi dalla protezione civile, 16.270 persone sono ricoverate con sintomi con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri. Sono salite a 29.315 le vittime con un incremento di 236 in un giorno. In sei regioni, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Basilicate e Molise non si registrano morti nelle ultime 24 ore. In Italia i contagi totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti sono 213.013 con un incremento rispetto a ieri di 1.075. Calo netto dei malati, gli attualmente positivi nei dati della protezione civile nelle quattro regioni più colpite dal coronavirus. Sono 215 in meno in Lombardia, in Piemonte meno 239, in Emilia-Romagna meno 303, in Veneto meno 118. I malati calano in tutto il resto d'Italia, ad eccezione delle Marche, dove si registrano 13 nuovi casi e in Basilicata, in cui se ne registrano 4. Sicilia e Valle d'Aosta non registrano nuovi attualmente positivi. I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della regione Calabria sono 23.235. Di questi i rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 5.353. Lo rende noto la regione Calabria nell'odierno bollettino dei dati sul coronavirus. Sono 923, specifica poi la regione, le registrazioni per ingressi nel regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali. Noi abbiamo incontrato nella seconda giornata della seconda fase alcuni calabresi provenienti da altre regioni alla stazione centrale di la mezzia terme. Che sono contenta. Qual è stato il momento più difficile che ha trascorso durante questi 60 giorni? La Pasqua. Da Napoli. Siamo stati due mesi dentro casa, chiusi. In treno, il viaggio è stato affollato o cosa? No, 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 devo dire che hanno rispettato le misure precauzionali, quindi si è viaggiato tranquillamente. Siamo stati abbastanza coscienziosi coscienziosi perché in ogni caso siamo rimasti ben 60 giorni ognuno nel comune in cui ci trovavamo e penso che era anche giusto rientrare dopo 60 giorni con le dovute precauzioni. Abbiamo fatto il tampone, mascherina, guanti, qualsiasi cosa. Ora vi avrete dovuti togliere, però voglio dire igienizzando le mani e prendendo le dovute precauzioni. Il delicato passaggio dalla fase 1 alla fase 2 andrebbe affrontato da parte di chi governa la regione, non alimentando scontri istituzionali e polemiche politiche, ma favorendo il confronto. È quanto dichiara Pippo Callipo, capogruppo di Io resto in Calabria in consiglio regionale, che aggiunge le decisioni che in una fase come quella attuale hanno conseguenze serissime sulla vita delle persone, andrebbero prese parlando con i sindaci, con i medici, con la task force scientifica della regione, con i sindacati, con l'opposizione, con chi insomma rappresenta un pezzo importante della Calabria. Finora invece la presidente Santella e la sua maggioranza hanno ignorato tutto e tutti, il che ha procurato loro anche qualche figuraccia in diretta nazionale che si poteva evitare. Il deputato della Lega, Domenico Furgioele, si è rivolto al ministro per le politiche giovanili e lo sport chiedendo provvedimenti per la riapertura di palestre e piscine dopo l'emergenza sanitaria. Furgioele sottolinea che la crisi del Covid-19, una delle più grandi crisi sanitarie che la nazione abbia dovuto affrontare, sta mettendo in serie difficoltà non solo il sistema sanitario, ma anche la coesione sociale e soprattutto il sistema economico. Anche il mondo dello sport prosegue ha avuto gravi ricadute a seguito dell'emergenza sanitaria. Con le misure prese dal governo, continua Furgioele, sono stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, e sono state altresì interrotte le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri sociali e ricreativi, azzerando in tal modo gli incassi del settore sportivo. In particolare, scrive, il mondo natatorio è tra i più penalizzati, in quanto con la chiusura degli impianti delle piscine, in seguito al DPCM del 9 marzo 2020, ha penalizzato non solo i singoli atleti, ma anche i gestori delle piscine, che anche chiuse generano costi. Presidente della giunta regionale Iole Santelli ha nominato Eva Catizzone, segretario particolare della sua struttura speciale. Il decreto di nomine è stato adottato da Santelli lo scorso 29 aprile. Eva Catizzone è stato sindaco di Cosenza dal 2002 al 2006, dopo essere stata assessore con Giacomo Mancini, che l'aveva designata la sua successione alla guida del comune Ebruzio. Sul piano politico, Catizzone ha militato nei DS, nel PDM, nel PD e in SEL, per poi avvicinarsi alle posizioni dell'ultimo sindaco di Cosenza, Mario Piuto, e Diole Santelli di Forza Italia. Catizzone subentra nell'incarico di segretario particolare della struttura speciale del presidente della giunta regionale a Giampaolo Calabrese, a sua volta nominato sempre il 29 di aprile, responsabile amministrativo della stessa struttura. Inoltre, Santelli ha nominato Francesco Saverio Bonacci e Luca Fregola, quali componenti dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale. Il porto di Gioia Tauro ha registrato una spiccata crescita dei traffici nonostante la crisi mondiale generata dalla pandemia da Covid-19. Nei primi quattro mesi dell'anno, aumento dei traffici portuali superiore al 52,5%. Si tratta di un vigoroso incremento che comunque per una corretta lettura del trend, giunge a seguito della forte crisi del 2019, ormai decisamente superata. Lo comunica il commissario straordinario Andrea Agostinelli. Il commissario ha inviato una lettera di ringraziamento al patron di MSC, Gianluigia Ponte, che esattamente un anno fa, in occasione del suo insediamento nel board di MedCenter Terminal Container, aveva prospettato l'attuale tendenza positiva al fine di riportare lo scalo calabrese in betta le classifiche internazionali. A distanza di appena un anno, il terminalista ha avviato il suo piano di investimento, in piena sinergia con l'autorità portuale di Gioia Tauro, ma questo è stato anche l'anno in cui il mondo è stato investito dalla diffusione di un nuovo coronavirus, che ha generato una conseguente crisi economica e quindi una contrazione dei traffici. Nonostante tutto, lo scalo calabrese è stato pienamente operativo per garantire il rifornimento dei beni essenziali al Paese, nel pieno rispetto delle rigide linee guida indicate dell'ente, a tutela della salute delle maestranze. Il presidente Mario Omega ha completato la nuova governance dell'autorità di sistema portuale dello stretto. Con il decreto numero 73, infatti, è stato nominato il comitato di gestione della DSP, organo che in base alla normativa fiancherà il presidente nei prossimi quattro anni, con competenze strategiche in materia di pianificazione, bilancio e amministrazione dei porti dello stretto. L'ho reso noto la stessa autorità. Componenti del comitato saranno Alberto Porcelli, designato dalla presidente della regione Calabria, Mario Caldarera e Domenico Donato Battaglia, indicati rispettivamente dai sindaci delle città metropolitane di Messina e di Reggio Calabria, e il direttore marittimo della Sicilia orientale, Giancarlo Russo. Non ci siamo, questa fase 2 per noi è ancora una fase di chiusura, lo dice il presidente di Commercio Calabria, Klaus Algeri. Ogni giorno che passa aumenta la nostra enorme difficoltà, dice Algeri, non abbiamo più neanche la certezza di cosa accadrà il 18 maggio, non so più dirvi neanche quanti di noi saranno ancora aperti, perché avevamo aspettative anche sul 4 maggio e non vediamo invece davvero la luce. Parlo come Confcommercio, che rappresenta in Calabria oltre 25 mila imprese, ma anche per gli altri ruoli che occupo alla Camera di Commercio di Cosenza e ad Union Camere. Abbiamo in collegamento telefonico Klaus Algeri, presidente di Confcommercio e Union Camere Calabria. Da più parti viene lanciato un appello a fare presto, fatti e non parole, liquidità e non prestiti, è maggiore chiarezza. In realtà il messaggio che noi stiamo raggiando come Confcommercio Calabria è fatti, perché ormai il tempo ne è passato abbastanza. Io penso che oltre al fattore sanità che evidentemente il governatore sta gestendo, oggi mi pare che siamo solo a più 4, va gestito anche il discorso delle imprese. Fa piacere che l'Italia e la Calabria sono i nostri conti quando valgono le imprese in questo territorio, ma quando valgono anche quelle imprese che in realtà noi rappresentiamo, che è la piccola e media imprese. Ma su questa ancora non si è fatto ancora nulla, quindi c'è bisogno di liquidità subito, liquidità vera. Liquidità a fondo perduto? Certo, noi non parliamo di liquidità vera, a fondo perduto, le imprese già con le camere di commercio del resto in Calabria più o meno hanno provveduto ad affiancarsi al decreto del governo con la garanzia del governo e quindi in qualche modo i presti stanno funzionando, stanno funzionando a rilento ma stanno funzionando. Ma tengo a precisare che quello è un debito che le imprese si stanno facendo, quindi si sta segnando il prossimo futuro. Oggi in questo momento noi abbiamo bisogno di liquidità vera. Dal suo punto di vista, in questo caso, la Presidente della Regione Santelli cosa potrebbe fare in modo pratico e immediato, direi? Secondo me dovrebbe venire la Giunta e approvare quelle che ci sono state dette in questi giorni, con le proprie responsabilità, ascoltando i corpi intermedi, quelli importanti, quelli che hanno un ruolo significativo con delle proposte e di poter farlo prima possibile. Io ne ero più che convinto che ci deve essere una Giunta oggi, non so per quali motivi la Giunta oggi non si è fatta, ma penso che si farà domani e un altro giorno perso. Più si perde un giorno e più si bruciano i milioni e milioni di Euro e si bruciano a non riaprire o a chiudere le imprese. Inizia una fase 2, non siamo fuori dall'emergenza, noi lo abbiamo detto più volte, inizia una fase 2 però come affrontarla? Bisogna affrontarla sperando che non ci sia un ritorno di queste epidemie, abbiamo fatto anche i tamponi nel nostro ospedale, abbiamo comprato un macchinario per raddoppiarli, però se ci fosse stata la possibilità di farne in più saremmo stati un po' più tranquilli, il nostro dubbio è solo su questo. Speriamo che non ci siano casi, focolai in giro che possono far ritornare, perché sarebbe veramente una rovina dovesse ritornare il diffondersi di questo virus, però il mio pensiero adesso va dopo il giorno 18, tutte quelle attività che devono riaprire e che secondo me hanno pagato lo scotto in questi tre mesi nell'avere zero come fatturato, quindi sono fortemente preoccupato onestamente, quindi credo che bisogna fare uno sforzo e considerare questa epidemia come un fatto straordinario, voglio dire è dal 1640 che noi avevamo un'epidemia del genere, dopo 400 anni non puoi trattare questo argomento come un argomento normale, quindi va fatto un qualcosa di straordinario, uno sforzo straordinario magari che si possa ripagare nell'arco dei prossimi 10-15 anni, quindi ammortizzando magari la spesa, però bisogna intervenire per dare un contributo a tutte le attività che rischiano veramente di saltare, quindi parlo di tutte le partite IVA, quindi parlo di commercianti, gli artigiani, i professionisti, i giovani professionisti che sono affacciati da poco al mondo del lavoro, rischiano veramente di chiudere tutti quanti, quindi sono molto preoccupato. Siete fermati, ma ci avete dato una grossa mano, perché avete contribuito a diffondere quello che erano i messaggi che noi volevamo mandare alla città. Cadanza l'ha dato una risposta eccezionale, una risposta che onestamente, credo che non dico il 100%, ma quasi tutti hanno risposto tranquillamente, stando al loro posto e ascoltando quello che l'amministrazione comunale stava facendo con le ordinanze. Il loro impegno è stato determinante e fondamentale in questa dura emergenza per fronteggiare il contagio del Covid-19. Parliamo dei volontari della protezione civile calabrese, consegna di genere alimentari, di domicilio, supporto alle famiglie e ai soggetti più svantaggiati con la collaborazione di numerose associazioni sul territorio. Ne abbiamo parlato con Rossella Palermo della protezione civile di Catanzaro. Sono stati mesi, settimane difficili, non sono terminate perché non siamo fuori dal tunnel, però siamo forse sulla buona strada. Sicuramente questo si può dire che è un punto di partenza per la città di Catanzaro, diciamo che il lavoro è stato tanto, ma che la cittadinanza ha risposto benissimo, noi come protezione civile siamo stati sul campo, quindi posso dire sicuramente che la città ha risposto bene e i risultati si sono visti. Speriamo da questo momento in poi che comunque con la dovuta cautela tutta la vita di Catanzaro riprende nella sua normalità, certo con le dovute precauzioni. Molte associazioni vi hanno dato una mano? Sì, quasi tutte. C'è stato veramente un lavoro di rete eccezionale che ha dimostrato che se si fa insieme si fa meglio. E come si affrontano le prossime settimane? Allora in questo momento siamo impegnati comunque ancora con, si dà ancora dei buoni alle famiglie che comunque erano rimaste nella prima trancia fuori da quella che erano comunque la somministrazione di questi buoni. Adesso stiamo facendo anche la consegna dei tablet ai ragazzi che comunque devono fare le lezioni online, che comunque rimarrà come tale situazione, quindi la scuola si fa online. E poi praticamente nelle prossime settimane continueremo con le deterrate alimentari perché giustamente le famiglie ancora hanno bisogno fino a quando l'attività economica si riprenderà, diciamo, ripartirà. Beni per un valore di un milione e mezzo di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dello Scico con il coordinamento della DDA diretta da Giovanni Bombardieri. All'imprenditore Edile Giuseppe è sposato di 55 anni, accusato di intraneità al gruppo mafioso sposato Tallarido, operante a Taurianova. Sposato era stato arrestato nel dicembre 2017 insieme ad altre 46 persone nell'operazione Terra Mara Closed con l'accusa di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e distorsioni aggravati dal metodo mafioso. Gli indagati erano accusati di essere legati alla Cosca Avignone, Zagari, Fazzalari e Viola. Sposato in particolare era accusato di aver avuto compiti di decisione, pianificazione delle associazioni criminali da compiere e degli obiettivi da perseguire con riferimento all'intera organizzazione criminale nel settore delle estorsioni, delle intestazioni fittizie di beni, nonché per la giudicazione degli appalti pubblici e privati. I carabinieri hanno arrestato il latitante Gregorio Gioffredi, 57 anni, ricercato al dicembre scorso nell'ambito dell'operazione Rinascita Scott, condotta dalla ROS e dal comando provinciale di Vibo Valencia e coordinata alla DDA di Catanzaro contro le maggiori cosche d'Indrangheta del Vibonese e che ha portato all'arresto di oltre 300 persone. Gioffredi, secondo l'accusa, sarebbe un esponente apicale della locale di San Gregorio di Pona imparentato con Rosario Fiere, storico capolocale, attualmente ai domiciliari. L'uomo è stato arrestato nella notte nel corso di un intervento in un'abitazione rurale delle campagne di Contrada Battia di San Gregorio di Pona dai carabinieri del ROS, del comando provinciale di Vibo e dello squadrone riportato cacciatore di Calabria, coordinati dalla DDA di Catanzaro. L'abitazione in cui si era nascosto è il latitante di proprietà di un soggetto ritenuto vicino alla cosca ed era munita di un complesso dispositivo di videosorveglianza. La nuova ordinanza firmata dalla sindaco di Catanzaro Sergio Abramo sulla fase 2 che sarà in vigore dalla 4 al 17 maggio. Prevede tra l'altro l'apertura di parchi, ville, giardini, spiagge, pinete, lungomare, cimiteri comunali, all'interno dei quali si dovrà comunque rispettare la distanza minima di sicurezza e sarà vietato ogni assembramento. Dopo essere stati nel parco della biodiversità abbiamo visitato anche la villa comunale, meglio conosciuta come Villa Margherita o Villa Trieste. Signora, si prova a ritrovare un minimo di normalità, anche se la normalità è lontana? Io oggi sono contentissima perché anche stare mezz'ora in villa per noi anziani è già una cosa bella. Comunque io anche dentro sono stata bene perché io mi so organizzare. Ho incominciato, leggo, faccio le parole crociate, ascolto RTC, ho il telefono con le amiche che non ci potevamo vedere. Anche adesso, anche se usciamo, stiamo lontani, ci parliamo da lontano e quindi io ho le figlie, ieri sono andata a trovarle, appena c'è andato il permesso, sempre alle dovute distanze. Se c'è problema con le panchine vuol dire che non hanno disinfestato la villa e quindi a questo punto il problema c'è. Io ho un nipotino e io non lo porto, mio nipote è qua. Non lo posso portare. Porti ancora prematura? Certo, però io che sono una persona anziana sono venuta, mi sono premonita di tutto. Dice che nemmeno alle panchine noi ci potevamo sedere. Allora io sono una persona anziana, cammino, faccio, poi mi stanco, dove devo mettermi? Mi metto per terra? A Catanzaro abbiamo una cosa meravigliosa, il centro città è una cosa bella, magnifica. Sì, 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 fatto piacere, proprio dopo tanti giorni a casa. Speriamo che tutto va bene, che tutto va bene, che non succeda niente.